Presidente, ma credo che in questi giorni dovremmo renderci più conto che parlando del Tibet e del Dalai Lama parliamo invece soprattutto di noi stessi. Qualche giorno fa al semplice annunzio che il Presidente europeo, che il Presidente Sarkozy osava in Polonia incontrare il Dalai Lama siamo stati trattati senza nemmeno darci gli otto giorni, licenziati, nessun incontro. La grande Europa si permette di accogliere o di parlare, di accettare e di ascoltare il Dalai Lama? Perché questo? Credo che sia chiaro, noi sappiamo che il popolo europeo se fosse interpellato come popolo europeo all'80% sarebbe a favore del Dalai Lama.